Storie di persone, di uomini, di famiglie che con l'allevamento, con la transumanza hanno potuto trovare una forma di reddito e hanno potuto sostenersi nei secoli scorsi. Noi li guardiamo non sicuramente con nostalgia, ma li guardiamo proiettati al futuro. Una transumanza riscoperta lungo tracciati, percorsi dentro al profondo del nostro paese, le aree interne che normalmente sono fuori dai grandi flussi turistici, dai grandi progetti. Questo è un progetto di valenza europea che non era scontato, che ha messo assieme le energie di tantissime regioni in Italia e che grazie appunto anche alla lungimiranza di Lorenzo Sospiri ha potuto trovare il là per partire, per poter essere appunto coordinato e steso da una cabina di regia e un gruppo di lavoro importante. Quindi noi ci aspettiamo molto da questo progetto. Abbiamo avuto anche l'attenzione di alcuni ministeri che vedono di buon occhio questa iniziativa. Abbiamo avuto già qualche contatto con l'Europa che vede bene questo tipo di progetto. Quindi partiamo con grande speranza, sotto buoni auspici e speriamo veramente di riuscire a far atterrare questi fondi europei sul nostro territorio per dare risposte a chi vive nel settore primario, a chi vive di agricoltura e di allevamento, a chi vive anche di turismo, ripeto, fuori dai grandi flussi turistici in località poco conosciute ma che grazie a questi percorsi possono trovare appunto anche uno spazio importante nel recupero di un turismo lento, un turismo consapevole, un turismo adatto al nostro territorio.